Nino parola a te. Adesso su Rai Radio 1 vi diamo un'informazione legata ad una mostra che si intitola Energeia di uno dei migliori artisti europei del cosiddetto astrattismo segnico e gestuale. Parlo di Silvio Formichetti che è un artista abruzzese che in questa mostra mette in risalto la sua recente produzione che per l'occasione espone un corpus di 40 opere di piccole e grandi dimensioni esattamente alla Galleria Cavour di Padova ed è possibile visitarla fino al 28 luglio. Niccolò Boneghi proprio all'interno del catalogo parlando di Silvio Formichetti dice che imbattersi nelle sue tele è un'esperienza che non lascia indifferenti perché propone eruzioni vulcaniche, lingue di fuoco che si incrociano, squarci di luce che faticosamente filtrano dalle telebre della umanità. è un'opera la sua che sta riscuotendo grande successo dopo essere esposto con i suoi quadri anche alla Biennale di Venezia l'anno scorso.